circolo stilografico romano montegrappa nazionale flex prova crossover con domenico di calamos muoien a tutte le amiche e gli amici del circolo stilografico romano oggi facciamo una impressione di scrittura in crossover quindi in parallelo con l'amico domenico di calamos proveremo una penna insieme è lo stesso tipologia di penna soltanto in due libri diverse con inchiostri diversi la penna in particolare la montegrappa nazionale flex i due video verranno poi montati insieme e trasmessi contemporaneamente su entrambi i canali prima il mio e poi quello di domenico di calamos sul canale ciclo stilografico romano e viceversa sul canale di calamos eccola qua la confezione della nostra montegrappa nazionale flex che arriva con una controscatola appunto di cartone che andiamo subito a togliere all'interno del cofanetto di legno all'interno del cofanetto di legno il diciamo così il foglietto illustrativo che contiene informazioni sulla storia della montegrappa in particolare poi i dettagli della penna in questione il certificato di autenticità con alcune informazioni tra cui il modello della penna la tipologia del pennino e il numero di serie della penna e poi la diciamo così la traduzione di queste informazioni anche in inglese all'interno il calamaio di cortesia di montegrappa con inchiosto di colore blu e sotto questo panno di velluto la penna in questione eccola qui la nostra nazionale flex di cui parleremo tra pochissimo sotto questo panno di velluto il manuale di istruzione con informazioni sulla pulizia e caricamento della penna stessa e sotto ancora un panno che ci potrà essere utile per alcuni aspetti di cui parleremo tra qualche secondo tolto lo scrigno possiamo passare alla nostra penna che è la versione appunto montegrappa nazionale flex qui in versione zebra esistono altre versioni tra le quali altre libree tra le quali citiamo in particolare la cinnamon che è un colore rosso arancione e la marbled green che dovrebbe essere quella che andrà a provare il nostro amico domenico appunto di calamus la penna viene in edizione limitata sono 100 pezzi per ogni tipologia di penna per ogni librea si parliamo di una penna in celluloide alternata a parti in diciamo così in resina le finiture sono tutte in argento sterling sia la clip che le finiture sono in argento sterling all'interno il fusto insomma una diciamo così la costruzione comunque sempre in resina il resto del fusto è tutto in celluloide quindi sezione in resina fusto in celluloide pennino in oro 18 scusate 14 carati oro 14 carati disponibile soltanto in due gradazioni fine ed extra fine qui ce l'abbiamo nella sua gradazione extra fine e sulle nazionali flex così come riporta il nome in realtà il nome originale era nazionale ma comunque viene poi chiamata nazionale flex il pennino è disponibile soltanto in edizione appunto flessibile la forma è una forma particolarmente snella il fusto è abbastanza sottile il cappuccio leggermente più grande la forma ricalca un po l'edizione che era catalogo della montegrappa nel 1930 nel catalogo elmo diciamo così le dimensioni che possiamo vedere paragonate alla classica lami sono sostanzialmente identiche nella lunghezza magari perdiamo un paio di millimetri il fusto è sicuramente un pelino più sottile ma nulla di che il cappuccio viaggia insomma sul più o meno sulle stesse dimensioni il peso ovviamente è diverso trattandosi questa di una penna di celluloide quindi di tutt'altra fattura e manifattura come abbiamo detto le finiture sono tutte in argento sterling e insomma qui parliamo di una penna che io ho da qualche tempo in effetti le finiture in argento hanno cominciato a scurirsi il panno blu che avete visto prima serve appunto a lucidare queste finiture a riportarle alla lucentezza originale ce ne sono altri di altre case disponibili o comunque anche in altri negozi si possono trovare sia prodotti liquidi sia panni già imbevuti pronti per la lucidatura delle finiture io apprezzo e amo particolarmente comunque l'argento anticato e scurito per cui l'ho lasciata così anche per farvela vedere in questo modo nulla vieta appunto poi una volta che i livelli di così di scurimento e sono hanno raggiunto i livelli di guardia di riportare la penna al suo stato originale abbiamo detto edizione limitata 100 pezzi il numero della edizione limitata viene riportato qua nella nella parte finale della eccola qua dove c'è vediamo se si vede questo è il numero 36 di 100 vediamo se si vede in particolar modo va bene comunque su questa veretta è disponibile appunto l'indicazione del numero di serie nella parte centrale invece è indicato il nome monte grappa e dietro ci sono tutte le indicazioni di turno diciamo così le serigrafie e le funzionature che indicano appunto la il fatto che si tratta di finiture in argento sterling penso che si veda abbastanza bene questo modello qua in particolare il modello zebra che alterna nella sua finitura celluloide colorazioni scure a colori a colorazioni grigio chiare grigio insomma quasi di color perla grigio scuro grigio medio quasi antracite e appunto poi nero diciamo alcune striature sembrano proprio con quasi bianche insomma diciamo così il pattern che ne deriva è un pattern praticamente interessante penso si riesca a vedere abbastanza bene in questo modo qua eccolo qua la marble grid avrete modo poi di vederla appunto nella prova di calamos la versione cinnamon è tutta diciamo così rossa arancione poi sono disponibili edizioni speciali che appunto hanno delle colorazioni diverse tra cui ne ricordo una particolarmente interessante che è chiamata indiana ecco qui la vedete un attimo potete vedere e apprezzarne un po alcuni dettagli eccola qua il pennino abbiamo detto è un oro a 14 carati cerco di farlo vedere nel dettaglio è quasi da molto molto bene vedete i punti di alleggerimento sulle ali eccole qua sembra quasi di rivedere i pennini giovo ma vi posso assicurare che si comporta in modo assolutamente diverso il il feeder a occhio direi che è un feeder in plastica poi anche vediamo se calamos potrà confermare questa mia impressione o smentirmi di dirmi invece che ne banite ma o che mi sembra assolutamente un pennino scusate un feeder in plastica eccola qua ancora la tengo un attimo vicina in modo che possiate apprezzare la finitura in celluloide veramente particolarmente interessante queste piccole righe che vedete sono i segni della filettatura scusate della diciamo così dell'abitamento una volta che il cappuccio viene abitato lascia qualche piccolo segno ma che con una piccola lucidatura insomma è facile portare via riportare ripristinare nello stato iniziale benissimo non dico niente sulla storia della montegrappa insomma sono informazioni potete tranquillamente andarli a leggere su una nazionale abbiamo detto e io direi che possiamo tranquillamente passare alla prova di scrittura e vedere come si comporta questo pennino in azione oggi utilizzeremo questo color verse nero che si chiama check viene in dotazione con una boccetta di colore più piccola ci sono alcune confezioni di color verse che hanno padre figlio o madre figlia e in particolare il grande è questo colore nero e la boccetta piccola da 15 ml contro il 65 questa grande è un grigio un grigio medio che adesso non ho qui con me che avremo modo di provare più avanti questo è il cartoncino di prova del colore quindi color verse nero check avendo cambiato anche la webcam per la prova di scrittura vi faccio vedere da vicino anche i dettagli di questa penna che possiamo apprezzare un po con questa illuminazione appunto con questa webcam in grado di fare un fuoco molto molto ravvicinato questo numero di serie di cui parlavo prima 36 su 100 questa la finitura della celluloide in versione zebra eccole qua le finiture in argento sterling come vi ho detto prima scurite per il tempo così come la clip queste non sono grafi ma sono appunto soltanto le finiture che non sono state lucidate e qua i dettagli adesso possiamo svitare bellissima anche la sensazione del meccanismo del cappuccio quando viene svitato e possiamo apprezzare qui la bellezza di questo pennino eccolo qua guardate che bella la finitura di questo pennino e la sua lavorazione ma anche la capacità di messa a fuoco di questa webcam devo dire impressionante eccola qua oro 14 carati passiamo alla prova di scrittura prima su un foglio di carta comune poi passeremo alla carta prodia e infine alla crown mill alla carta vergata crown mill abbiamo detto il colore è il color verse check nero quindi abbiamo una si vede si poi facciamo una zoomata in modo che si veda meglio va bene no così allora monte grappa nazionale flex pennino extra fine appunto flex oro 14 carati con inchiostro check cioè nero della color verse ok allora andiamo in zoom e vediamo come si comporta nel dettaglio allora io comincio dai classici 8 poi vi faccio vedere di cosa è in grado cosa in grado di fare questa appena vediamo ecco mettiamoci un po meglio quindi siamo sempre su carta comune eccoci qua allora nella parte alta il tratto è veramente quello di un'extrafine se io non vado a fare pressione la penna si comporta assolutamente con un tratto di una penna extra fine direi quasi a livello dei giapponesi appena si fa un po di pressione il tratto comincia ad allargarsi ma guardate non c'è veramente bisogno di fare di fare uno sforzo cioè questa basta proprio il peso della scrittura il peso della mano non è come alcuni pennini che ne so alcune per esempio alcune leonardo su cui con i famosi pennini gioco si comportano bene ma bisogna comunque premere una certa forza qui è il peso della mano che permette l'allargamento del tratto che avviene in maniera veramente naturale io credo che con questa telecamera si possa apprezzare proprio la flessibilità del pennino viene un po bislungo semplicemente per il tipo di inquadratura ma si vede proprio il meccanismo di flessione poi insomma in un altro pezzo del filmato avete potuto apprezzare i dettagli di questa penna quindi insomma sapete di cosa stiamo parlando allora se vogliamo vedere come il feeder riesce a stare dietro il pennino possiamo fare qui mi sono allergerito io guardate non ha nessun tipo di incertezza nessuno skipping nessuna falsa partenza non ci sono problematiche di sorta il pennino ha un certo grado di feedback o di attrito di scrittura molto piacevole non gratta in nessuna direzione né verso l'alto né verso il basso né a sinistra né verso destra c'è un certo grado di feedback si sente il pennino sulla carta non è scorrevole come il burro come si dice in alcuni casi ma non è un difetto del pennino è che trattandosi comunque di un tratto extra fine di partenza è normalissimo che insomma un certo grado di risposta si possa avere io provo a farvi sentire il rumore vediamo se si sente quindi comunque la scorrevolezza c'è ed è la scorrevolezza adeguata a un pennino extra fine il grado di allargamento del tratto è veramente impressionante e il flusso è sempre costante e corposo non ci sono ecco qui sta finendo l'inchiostro adesso vado un attimo a ricaricare adesso facciamo qualche prova di scrittura di qualche lettera in corsivo inglese sempre che io sia in grado devo dire la parte importante la bellezza di questo pennino è il punto di partenza cioè il tratto di partenza come mi ha insegnato il maestro Ernesto Casciato è sì importante il grado di diciamo così la capacità del pennino di allargare il tratto quindi è sicuramente importante questo tipo di tratto quanto essere largo ma più importante di questo il tratto di partenza quindi il delta che si ricava tra il tratto di partenza e il tratto di arrivo ecco questa è la parte importante quindi va bene questo tipo di efficacia ma è importantissimo che il punto di partenza sia particolarmente fine perché soprattutto nel corsivo inglese così come in altri caratteri ovviamente ci sono momenti dei tratti soprattutto quelli ascendenti in cui appunto bisogna avere un tratto molto molto fine e allora vediamo un attimo per esempio fare la nostra a sono partito malissimo ecco vedete sono partito veramente male adesso la rifacciamo quindi partiamo leggeri leggeri andiamo su leggeri leggeri leggera pressione in discesa tratto ascendente e poi a chiudere vedete la differenza di tratto che c'è tra la parte ascendente e la parte discendente la differenza è assolutamente marcata facciamo la classica C partiamo da qua vado a premere rilascio e chiudo non è venuta benissimo avrei dovuto farla decisamente più larga ma comunque ecco un po meglio diciamo ma si vede a me interessava semplicemente farvi vedere questo tipo di differenza qua questa è la particolarità di questo pennino non siamo ancora ai livelli dei pennini vintage ma vi posso assicurare che tra tutti i pennini flex e ne ho provati parecchi questo è quello che più si avvicina al diciamo così al tipo di risposta che davano i pennini flex non c'è bisogno di premere tanto la penna allarga il tratto sotto il peso della penna stessa o sotto il peso della scrittura ma ritorna in uno stato di quiete molto molto rapidamente è un attimo salgo in questo modo e scendo in questo modo la differenza è immediata ma basta risalire e il tratto ridiventa subito fine vedete allargo e immediatamente quando risalgo il tratto di nuovo fine quindi il ritorno allo stato di quiete è praticamente immediato il corsivo inglese è particolarmente è sicuramente molto praticabile con questa penna quantomeno insomma in assenza di strumenti più dedicati tra tutte le penne che ho questa è una di quelle che mi permette di più di fare i miei esercizi di corsivo inglese come vedete non sono ancora abbastanza perché il risultato che qui è venuto è veramente pessimo ma sostanzialmente è più l'emozione della prova che altro per quanto riguarda l'utilizzo per scrittura per appunti veloci non ci sono assolutamente problemi la penna scrive molto rapidamente vedete qua con anche un piacevole rumore in fase di scrittura eccola qua monte grappa nazionale flex scusate sono andato un po' sotto la rifacciamo eccola qua quindi vedete la scrittura anche molto veloce non da assolutamente problemi eccola qua e che altro dire quindi la penna mi ha dato veramente grandi soddisfazioni questo pennino vi ricordo c'è disponibile è disponibile anche come fine flex questo è l'extrafine io sono felicissimo di questa penna ha una piacevolezza in mano veramente unica le dimensioni le trovo perfette il bilanciamento è leggermente spostato verso la parte finale ma non è mai fastidioso tutto sommato non mi crea problemi in fase in fase di scrittura facciamo però una prova prima di insomma di chiudere invece su una carta un po più pregiata ecco andiamo bene questa eccola qua passiamo sulla carta rodia eccola c'è una piccola macchia ma non importa e andiamo a vedere come si comporta la nostra penna che abbiamo detto essere una scusate ho finito troppo su montegrappa nazionale flex extra fine allora andiamo a vedere subito la variazione di tratto qua e vabbè la carta rodia è la carta rodia a parte proprio il colore di partenza e l'assenza del quadretto che già da solo meriterebbe una menzione d'onore ma la diciamo così il l'incisività del tratto è realmente impressionante adesso non so se si riesce ad apprezzare attraverso la webcam ma vi posso assicurare che sembra di avere una stampante laser in questo momento in mano qui la finezza del tratto si apprezza ancora di più guardate quante fine e guardate quanto ma veramente non sto facendo nessun tipo di sforzo il tratto si comincia ad allargare fino a diventare particolarmente importante devo dire mi è venuta veramente malissimo ecco però proprio partito male proviamo a fare la c insomma il risultato c'è lasciate perdere il grafico di turno che sono io ma cercate di apprezzare semplicemente la differenza di tratto vi posso assicurare che non sto facendo nessuna pressione esagerata cioè la penna va giù da sola e l'attrito di scrittura qui rispetto alla carta precedente è molto meno molto evidente vi faccio risentire il rumore la penna scorre più velocemente e anche qua se vogliamo scrivere rapidamente qui sono io mi sono allontanato dalla carta è una penna con la quale si scrive veramente bene appunti veloci così come una scrittura più ponderata bene l'ultimo test e poi vi lascio tranquilli è quello con la nostra crown mill cosa abbiamo qui abbiamo un po di test della santini eccoci qua andiamo provare la nostra prova finale su carta vergata della... ecco un po più giù qua monte grappa si vede sì andiamo un po più giù ecco insomma la carta vergata non è proprio il suo settore ma ci divertiamo comunque a vedere come risponde beh insomma non è per lei ma comunque andiamo a vedere la differenza eccoci qua una la nostra rodia e la carta comune beh insomma che dire una gran bella penna è una penna veramente importante anche come come prezzo credo che sul listino insomma viaggi sui mille passa euro diciamo che le complicazioni ce la tutte come si dice in gergo per gli orologi quindi abbiamo l'argento abbiamo la celluloide abbiamo il meccanismo a pistone abbiamo l'edizione limitata che altro dire il pennino flessibile è uno dei migliori che io abbia mai provato si comporta benissimo e si avvicina un po ai vintage per quanto insomma questa cosa sia possibile quindi capite perfettamente quello che sto dicendo ovviamente non arriviamo a quei livelli di burrosità e diciamo così di apertura dei rebbi che insomma fa gridare al miracolo con cent'anni di distanza 90 anni di distanza cent'anni di distanza però vi posso assicurare che l'esperienza è veramente godibile è una gran bella penna che altro dire vediamo che cosa ne pensa domenico di calamus e poi trarrete voi le vostre conseguenze ovviamente potete farci le vostre domande e noi saremo pronti a rispondervi nei limiti delle nostre capacità quindi ancora grazie al circostiografico romano come sempre per avermi ospitato e anche a domenico di calamus per aver accettato questa bella iniziativa di una prova in crossover e la possibilità di offrire ai nostri diciamo così lettori o frequentatori del canale la possibilità di avere due punti di vista differenti sul medesimo oggetto grazie e a presto ciao a tutti salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale e oggi questo è un video un po' particolare perché oltre a presentarvi questa penna di cui andremo a parlare fra un secondo è un video in collaborazione con l'amico maurizio capriccio di circolo stilografico romano un altro canale che si occupa di stilografiche che vi raccomando vivamente di seguire se ancora non lo fate oltre al mio chiaramente calamus perché è un canale anch'esso che diffonde la cultura stilografica e lo fa con dovizie di particolari veramente ben fatti e dicevamo che questa è una collaborazione perché io vi presenterò le mie impressioni su questa penna che è la montegrappa nazionale marble green un'edizione di qualche tempo fa del 2018 rifacimento di una penna di cui adesso andremo a parlare ma ve ne parlerà anche maurizio e non vi spoilerò cosa vi dirà né che penna che versione di questa penna utilizzerà se lo state seguendo sul mio canale invece se lo seguirete sul suo canale lo avrete già visto bene direi che possiamo andare ad iniziare con questa che è la nazionale montegrappa questa è il rifacimento in edizione chiaramente limitata e ne vedremo anche il motivo è il rifacimento di una penna la nazionale degli anni 30 che la elmo forse la prima o una delle primissime case di penne stilografiche italiane aveva catalogo in quegli anni e questo è un rifacimento in tiratura limitata 100 pezzi che in questa versione quindi nella versione marble green ma ne sono state fatte diverse versioni fatta nel 2018 se non erro e questa penna in particolare adesso andiamo un po a stringere sulla penna è la marble green come dicevamo finitura cioè questa è una finitura in celluloide bellissima celluloide marble green con le finiture quindi la clip e gli anelli come vedete un po bruniti nella mia versione ma a me piacciono così onestamente in argento e le parti finali di cappuccio e pistone perché una penna a pistone nella versione originale della penna la elmo degli anni 30 erano in ebanite ma oggi diciamo che si è optato per una resina sicuramente più resistente forse insomma non sappiamo anche la sezione è in resina e non in ebanite pennino e il pennino è un flex quindi ho elastico anche questo è nella versione extra fine è un pennino extra considerato molto flessibile da monte grappa comunque chiaramente non sarà all'altezza di un flessibile degli anni 30 questo è come vedete alleggerito lateralmente quindi è più lo possiamo considerare più un elastico che un flessibile comunque sia lo andiamo a vedere la penna è una penna piccola non è molto grande una penna a pistone ma anche in virtù delle finiture in argento anche abbastanza pesante tutto sommato la celluloide è veramente molto bella guardate il cappuccio quanto è trasparente veramente molto molto ben fatta la penna cioè una finitura magnifica della penna e anche l'invito sul cappuccio è molto delicato veramente un gran lavoro arteggiano questa penna fu prodotta nell'occasione in una tiratura limitata a 100 a soli 100 pezzi quindi sicuramente una una tiratura limitata il numero della penna è indicato qui sulla veretta del del pistone la mia è la 52esima di 100 mentre sulla veretta davanti è indicato monte grappa made in italy vediamo anche da vicino il pennino che nel mio caso è l'extrafine perché i pennini di questa penna sono stati fatti nelle due versioni fine ed extra fine e io ho optato per l'extrafine le finiture in argento hanno questa caratteristica di tendere ad ossidarsi e quindi ad essere diciamo a scurirsi cosa che a me piace però chiaramente possono essere pulite anche abbastanza facilmente tutto sommato e quindi tornare alla sua lucentezza con il cappuccio calzato la penna ha una dimensione sicuramente più grande più grande in termini di lunghezza perché in realtà il diametro della penna non è grandissimo e a questo punto non ci resta che provare a scrivere l'ultima cosa sul pennino è che questo pennino è con la scritta extra fine sul lato è un 14 carati quindi pennino oro 14 carati con una cesellatura di montegrappa l'altra caratteristica della della penna è la forma goccia della della clip clip anch'essa in argento sterling bene ora andiamo ad inchiostrarla e per inchiostrarla non useremo un inchiostro italiano ma un inchiostro polacco ed è il k w z k w z ink flagone da 60 ml honey il calamaglio della k w z è un grande calamaglio scuro con un'imboccatura molto grande questo è l'inchiostro e ora andiamo ad inchiostrare questa marble green altra caratteristica che non vi ho detto ma che me ne accorgo adesso che vi devo di assolutamente dire è che il pistone è il pistone brevettato monte grappa micro millesimato quindi ha questa caratteristica di girare con una sorta di scatti e quindi caricarsi di conseguenza con questi scattini pulisco la penna e prendo la carta roglie questa è monte grappa nazionale 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 ed è la versione Marble Green, quindi questa colorazione è così chiamata, quindi perché ne sono state fatte almeno altre due serie di colorazioni, e poi vi ricordo che seguirà sul mio canale la prova anche dell'amico Maurizio, mentre se la state guardando sul suo canale, sul canale del circolo stilografico romano, avrete già visto la sua prova, quindi Marble Green. E questo è il pennino extrafine, 14 carati. Mentre questo inchiostro, con cui sto scrivendo sulla carta Rodia, è l'inchiostro KVZ. Il tratto è sicuramente un tratto extrafine, veramente. Adesso vediamo la flessibilità, fino a quanto riesce a spingersi questa flessibilità. Allora, la flessibilità sicuramente c'è, il tratto è extrafine, e riesce a spingersi, sì, abbastanza, abbastanza. Calcolate che anche l'inchiostro sembra abbastanza bagnato come inchiostro, quindi c'è un buon grado di flessibilità. Nonostante l'alimentatore, non mi sembra proprio un alimentatore in ebbanite, ma probabilmente è un normale alimentatore plastico. Comunque, è molto bella la flessibilità del tratto. Chiaramente lo definiremmo oggi un pennino elastico non proprio flessibile. Bisognerebbe avere una nazionale dell'epoca a vedere che pennino su montava. All'epoca esistevano sicuramente pennini molto molto elastici, caratterizzati da altre caratteristiche più che alleggeriti come questi. Però il pennino è bello su questa penna e sta anche molto bene, anche la penna a me piace abbastanza. È una penna sicuramente pesante, non è una penna leggerina, nonostante la celluloide l'argento si fa sentire, quindi anche la penna è abbastanza pesante. Il tratto è bello, come possiamo vedere, è veramente un bel tratto molto extra fine, è abbastanza elastico, quindi bel pennino, a me piace abbastanza. E piace anche questo Oney, questo inchiostro Oney della KVZ, ha questa caratteristica di marrono un po' mielato, veramente un bellissimo inchiostro. Bene, per me è una penna validissima, un'ottima penna con delle finiture assolutamente fantastiche. Questo modello fu il primo modello del rifacimento della penna della Nazionale, è la tiratura a 100 pezzi, un po' difficile da trovare in giro, poi furono fatte altre versioni più recentemente. E quindi vi invito a vedere e a seguire anche le considerazioni dell'amico Maurizio, che inizieranno subito dopo che noi ci saremo salutati. A presto e vi lascio alla prova di Maurizio.